Prende forma in Tesino il progetto della Fondazione D'Aziario. L'adesione di massima dei tre comuni c'è. Cinte, Pieve e Castello Tesino hanno detto sì al progetto della Fondazione D'Aziario. Ora tocca fare altrettanto alla comunità Val Sugane Tesino e alla provincia di Trento. La sede sarà a Villa D'Aziario a Pieve con l'obiettivo di occuparsi del mantenimento e la valorizzazione della storia della famiglia. La Fondazione avrà il compito di curare, valorizzare e gestire i rapporti storici con la Russia, riscoprire e valorizzare anche il patrimonio di stampe di attuale proprietà degli eredi dei D'Aziario. Si punta alla conservazione, manutenzione e valorizzazione dell'antica villa. In che modo? Attraverso l'apertura al pubblico, eventi culturali e artistici, pubblicazioni di opere, collane e cataloghi anche digitali. Non mancheranno attività di ricerca, studio e divulgazione. Il 2021 potrebbe essere l'anno buono per la nascita della Fondazione D'Aziario.